Il mio fratello dice che ha fatto un casino, che ha fatto scoppiare l'incendio. Ma dice che lo vanno mettere in galera. Io verrei domani col treno. Diciamo che hai qualche problema di inserimento nella società. Ma ci stacco la testa. E' a modo suo. Sei cresciuto, eh? Mazza, ma che hai combinato? Ma ce l'hai a TV? Dobbiamo parlare di incendio. Io di tua follia. Col cazzo. Ho prisione! Ma che sei matto che chiudi la gente negli sgabuzzini? Siamo fratelli fino a un certo punto, eh? Perché io so di Roma. Lo sentite il papà? Ogni tanto. Uno che si fa un po' i cazzi suoi. E' in America. Come faceva venire? Voglio farti vedere una cosa. Ma che è? Un'astronave. E che ci fai? Vado sulla luna. E tu veramente vuoi andare sulla luna con sto scaldabagno? Tu pensi che sono matto, vero? La sai la differenza tra gli uomini e gli animali? Il cervello. I sogni. Noi abbiamo sempre qualcosa di grande da inseguire. Non sei la NASA. Sei una persona. Non ce la farai mai. Questa roba è tutta la mia vita. Non ne ho un'altra. Miniจami. Chiudà. Grazie.